Non c'è una rappresentanza politica a tutti gli effetti, parliamo tutte le liste civiche, quindi non c'è un raccordo con Palermo e se un sindaco non ha un raccordo con Palermo e non va almeno una volta a settimana a Palermo, la sua città è destinata a morire. E ve lo dico perché io parlo anche da tecnico, sono tecnico della regione Sicilia, del territorio ambiente e ho seguito una vicenda su segnalazione di una importante persona ciclitana, Bartolo Mililli che è un amico ed è una persona che si batte anche per il territorio e mi diceva Marco ma puoi vedere tu a che punto è la pista ciclabile? La pista ciclabile che è il consigliere purtroppo mal informato è stata definanziata, l'abbiamo presa, l'abbiamo presa nel senso parlo io con l'apporto dell'assessore Falcone che sarà qui lunedì, l'abbiamo presa e l'abbiamo infilata nei fondi di sviluppo e coesione che non sono altro che dei contenitori che sono stati fatti dalla politica a Palermo per ridistribuire delle importanti somme. Ora lì se non c'è una spinta politica bisogna dargli priorità e bisogna capire che unire due territori, unire Marina di Ragusa con Donna Lucata è fondamentale, la pista ciclabile è fondamentale. Cioè queste cose però non si capiscono, anzi vedo delle situazioni da parte di assessori, da parte di collaboratori dell'amministrazione che danno per straordinario tappare quattro buche nelle strade, tagliare, abbiamo tagliato le siepi a Donna Lucata, per due anni le ho tagliate io, ora le hanno tagliate all'amministrazione, ciò voglio dire quando è stato necessario. Abbiamo tappato le buche, sono stati disinfettati i serbatoi dell'acqua, ma alla gente che cosa gliene può fregare? Questa è normale amministrazione, queste sono cose che si devono fare senza manco pubblicizzarle.